Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao a tutti e ben ritrovati qui al Podcast Novus Siamo tornati, ogni volta dico sempre la stessa frase perché facciamo un video ogni morte di vava Purtroppo perché abbiamo veramente tanti problemi quest'anno sia per organizzarci sia con i materiali e tutto Quindi ben ritrovati un'altra volta qui al Podcast Novus E oggi vi vogliamo presentare, per farvi una sorpresa e anche comunque scusarci della grande attesa tra i vari video Vi presentiamo un nuovo format, un nuovo modo di fare video, un po' rubacchiato magari da qualche altra televisione Tipo le Iene, un nome a caso, e ringrazio soprattutto Roberto Lucarini, il nostro regista perché l'idea è sua È giusto che lo sappiate, è veramente un format divertente, magari anche estemporaneo sicuramente, però molto divertente Vi terrà compagnia breve anche quindi se avete voglia guardatevelo tutto E niente, io vi auguro buona visione, colgo ancora l'occasione per ringraziare Tommaso Severini, Edela Mannone, Nicolò Bernacchia e non Gianmarco Cacciamano Nonché la nostra incredibile stagista, e non è l'unica, se nonostante gli stagisti in realtà che stanno collaborando Perché il prossimo anno andranno a rafforzare l'organico del Podcast Novus Quindi grazie ragazzi e buona visione Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del Podcast Novus Immagino che Francesco abbia già fatto un'introduzione E niente, vabbè, volevo ringraziare i tecnici per il lavoro che hanno fatto soprattutto per questa puntata specialmente Visto che non c'è appunto nessun ospite, ma siamo io e Francesco direttamente gli ospiti dei nostri tecnici Quindi ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo anche una matricola che è venuta in un certo senso ad aiutarci Ovvero Emily, grazie mille Emily Nome Cristian Francesco Cognome Maggitti Totti No, caglia, scherzo Età 17 Quasi 18 18 anni almeno su quella originale, poi ad altri dico con un'altra età, però originale sulla carta è 18 Closse Quarto H Quinto E Liceo classico, quindi indirizzo superiore rispetto a tutti voi altri dello scientifico e linguistico, brutti, playbay, proletari Descriviti in tre parole Logoroico Sensibile E Palloso E Oddio Instabile Determinato Convulso Puntata preferita del podcast 18 anni di Francesco Caglia Allora, beh, sicuro penso se ne sono tante Una delle più divertenti è stata quella con Marcello, un amico mio Un grande amico, Marcello Piersante sul tennis Molto bella anche quella con il campione parolimpico cacciamano La mia preferita probabilmente è quella con Riccardo Leoni sulla geopolitica Che abbiamo fatto un mese dopo lo scoppio della guerra in Ucraina Perché mi sono impegnato tantissimo a fare quella puntata Ho studiato parecchio, ho lavorato tanto, tante energie, tanto tempo Tanta 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 dedizione Per portare a termine una puntata del genere Complessa, però anche Molto bella E sono orgoglioso di quella puntata là Con Riccardo Leoni Se potessi scegliere di riportare in vita un morto Chi? Aia Che se è tosta come domanda Chi riporterei in vita? Devo rispondere seriamente Oppure Un meme Io Direi per il meme Youtube ho anch'io Risposta seria E invece Probabilmente Heath Ledger L'attore Freddie Mercury Che è il mio idolo Professionalmente L'ho sempre ammirato per come riesce a Destreggiarsi sul palco Come vive il palco Che è un po' il modo di vivere la vita che sogno Come si vive sul palco E poi Che è in parallelo anche col suo modo di vivere A livello sociale, a livello umano Che è meraviglioso anche quello Ci sarebbe da aprire una parentesi lunghissima Non mi faccio il pippone Ma lo vorrei riportare in vita Semplicemente per rivedere un suo concerto O per intervistarlo O per parlarci O un'esibizione con lui sarebbe stupenda Io e lui sul palco Un film o una canzone che ti piace molto Ma di cui ti vergogni? Un film di cui mi vergogno un sacco Che mi piace È Una spia e mezzo Con Kevin Hart e Dwayne Johnson Bellissimo film Però non mi capita mai di flexarlo Ecco Allora attualmente non mi vergogno di qualcosa Di una canzone o di un film In passato un po' Avevo prudenza nel dire che il mio film preferito È Nottinghilla Quello con Hugh Grant e Julia Roberts Perché è veramente un film molto romanti E quindi i miei amici un po' magari mi prendevano in giro Però no Per resto adesso dico tutto liberamente Adoro tutto Winnie the V Non mi prendete in giro ma lo adoro Cartone preferito e niente Tipologia di pavimentazione preferita Ma che cazzo Ma che domande sono A me piace tantissimo Odio la moquette però non è una pavimentazione Giusto? Moquette A me piace molto la moquette Beh a me piace quando è bella liscia Quando c'è un po' di pelo Ma ce la facciamo andare bene Bella liscia pure e carina però eh Una classe che elimineresti dalla scuola Me ne stanno passando tantissime Probabilmente il quarto C Quinto A Quinto A perché in quella classe là C'è una specie di clan mafioso Capriciato dal boss Carmine Rauso Con Marcello Piersanti Davide Curta Andrea Mancinelli E lo stesso regista Roberto Lucarini Che fanno da Da sicari E segretari del boss Supremo Com'è il tuo rapporto con la madre dell'altro? Dell'altro che? Ah di Francesco Io la madre di Francesco Purtroppo non la conosco A me piacerebbe un sacco conoscerla Però mi ha bloccato su Whatsapp Quindi non ho nessun modo di conoscerla L'altro L'altro Cri 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 Ma devo dire che Se ho voglia di affacciarmi al panorama Salgo sul suo davanzale Chi dei due È più alto? Io Io Ah diciamo che sono più alto io Però lui è più alto nella realtà Empirica è più alto lui Perché Ma perché se mette La soletta di memory foam Come si chiama? Quella di gomma Che da tre centimetri Per allungasse E non la usa E usa varie cose per allungasse È l'unica cosa che si allunga Quella Con questi mezzi artificiali Il nostro Cristian Maggitti Chi è il più simpatico? Dipende Io Genuinamente Ah io Senza dubbio Io sono più simpatico Anche se posso concedergli il fatto che A volte è proprio un taglio Cristian Mi fa tagliare È assurdo A parte quando parla di fisica Di tutta quella roba la più scientifica Più tecnica Che l'ha Oppure di bioetica E fatte i monologhi sua No è un grande È un grande Cristian è un grande Simpaticissimo Chi ha la voce migliore? Io Assolutamente io È un tema questo Complesso C'avevo già ragionato sopra Secondo me Lui è una voce Riesce a farla a volte più profonda Più seria Così Ed apprezzabile Per carità Però Però La mia può essere più musicale Io Non lo so La vedo più come un pennello Che va sulla tela E pittura Che spolazza Quindi dico la mia Ciao Cristian Chi è il più bravo A fare il presentatore? Francesco È scontato Chi è il miglior attore? Io Eh Forse un pochino più lui No Lui è veramente Veramente bravissimo A recitare È incredibile Cristian Veramente Veramente bravo Andatela a vedere Con la compagnia Con la sua compagnia Spettacolare anche la sua compagnia La stazione dei piccoli artisti Che aveva già da Concetta Calluso Spettacolare Tre pregi E tre difetti dell'altro Allora Preggi di Francesco Ahia Estremamente interessante Cioè Non so come si dice Ti Ti coinvoglia molto Diciamo È molto difficile Annogliarsi con lui Ecco E Io Direi anche Professionale E E Anche lui Molto sensibile Difetti Difetti E qua veramente Casca Casca tutto Difetti Forse a volte Un po' sbadato Allora Come mi ammazzo Sta qua fuori Un po' sbadato Forse Eh A volte magari Pochetto Irrascibile E Ti dirò Magari a volte Anche un pochetto Menefreghista Preggi Preggi Muscoloso Elegante E E E Elegante Proprio nel modo E raffinato Quindi Veramente Inglese British Poetish Difetti Oddio E E E E E Troppo matematico Fisico E roba là Troppo Muscoloso Quando è mia Presenza Perché è troppo Dovrebbe Un attimo Quando è con me Essere meno Muscoloso E E E niente E E Ragazzo Perfetto In realtà Se ci Beh E' perfetto Ragazzi E' perfetto Andate Velo a prendere Perché è Veramente Incredibile Adesso Ti ridiamo Pan per focaccia E ti facciamo Una domanda Scomoda Ah Bello Bello Ci sta Ci sta Troviamo la Allora Candy Reynolds E' una tennista Statunitense Nata Nel 1955 Quale Di questi Grandi Slam Ha vinto Nel doppio Australian Open Roland Garros Wimbledon O US Open Dove è nata Si può sapere A Knoxville Quindi In America Si è statunitense Te l'ho detto prima Ah ok Andrò con L'ultima La D La risposta È Errata No Ha vinto Nel 1983 Ha vinto Roland Garros Nel doppio femminile Sì sì Ah Grazie Roberto In effetti Non l'avevo mai fatto Abbiamo dimostrato Che tu Fai Le domande Scomode Ma poi non sai E poi non so Non so le mie domande Scomode Perfetto Saluta in maniera originale I nostri Pochi spettatori Che sono rimasti Pochi Beh io Premetto Premetto Saluto l'amma D'Andrea Mancinelli Prima fan Grande mamma D'Andrea Mancinelli Faccio una cosa E magari Non tutti Se la ricordano Però per qualcuno Mi ho seguato Dai tempi primordiali Se la ricorda Salva a tutti Sportini e sportine E benvenuti Su Fra Sport Basta Non faccio nulla E non dirò più nulla Su questa cosa Abberrante Ok Perché voi Ciao ragazzi Andate tutti a